Buongiorno a tutti Giovedì 10 gennaio Si va a ritirare i premi Come si può vedere Weekend League 11-20 6 perse E mi sono fermato Argento 1 Vediamo un po' che si trova La merda Uno vuole l'altro Questi fanno veramente cagare Entrambi Mi prendo lui perché gioco in Inghilterra Ok Vediamo se ci si può Subito iscrivere Non mi interessa un cazzo Dei premi disponibili Niente da fare Non ho visto quanti crediti avevo Niente Erano deciso se prendere i crediti Per finire sicuramente la Si chiude l'applicazione e si riapre Vediamo che succede Ero deciso se non è deciso se prendere i crediti o prendere i pacchetti Perché voglio finire l'SBC Quella della serie A Per avere Skriniar Quello viola Insomma Eeeh Niente Vediamo un po' Perché mi manca poche Poche sfide Per completarla Vediamo un po' Grazie a tutti. Mi manca 56k, però io dell'Inter ce ne ho parecchi. No, 28k non ce la faccio mica. Da 56 scende a 28k non ce la faccio. Niente. Apriamo i pacchi e poi... E poi prendo i crediti, quindi così si finisce Screener. A meno che da questi pacchi non esce... E' walkout. Attenzione signori. E' walkout. If Brasile attacco... Vabbè. William José, 85. C'è la serie A del Chievo Rossettini, mi serve sicuro. Se no avrò uno del Chievo, voglio sperare che non sia proprio quello che c'ho. Andiamo a aprire il pacchetto Sotili. Vediamo un po'. Speramente non è walkout perché è troppo culo. Medelle. Beh, qui ho trovato il nulla praticamente. Una marea di roba doppia. Comunque, signori, questo è quanto per il video aggiornamento. Io andrò a prendere... Pecca... Niente, non riesco. Andrò a prendere... Volevo vedere se mi potevo iscrivere subito, però... Niente, mi fa ritirare i premi. Vado a prendere... Ve li faccio vedere. Vado a prendere i crediti, così arrivo oltre 50k. Ho fatto livello 3, ho fatto schifo, chiaramente. Non ho giocato con niente. Questi crediti qui sono al momento matematicamente... Mi permetteranno matematicamente di... Di completare l'SBC qui della serie A. No, ho sbagliato, sorry. Questa. Per poter prendere... Screener. Quindi... Ciao a tutti. Che sentiamo... Alla prossima in streaming. Non ho un... Un orario e un giorno certo. Potrebbe essere stasera come domani. Più che altro con FIFA, ecco. Diciamo che più probabilmente sarà venerdì con FIFA. Per oggi non ho la minima idea di quel che succede. Quindi... Telegram, Discord... Per sapere quando vado live. Ciao a tutti.